Noi rischiamo di essere, grazie a questo decreto, un Paese che verrà additato nella storia come un Paese con delle leggi liberticide, delle leggi contro ogni elemento che si è costruito in questi ultimi decenni dopo la guerra di liberazione, dopo la sconfitta del nazifascismo. Io credo sia vergognoso il livello di svendita che c'è stato da parte di alcuni deputati che avevano presentato degli emendamenti contro questo decreto e che li hanno ritirati. Credo che un Parlamento che si accinga a votare questo decreto abbia come elemento di paragone soltanto il Parlamento che dopo la firma del Re firmò e accettò le leggi razziali fasciste. Non possiamo accettare questo. Siamo qui e non siamo a Montecitorio. Ci hanno negato la possibilità di essere vicini a quella discussione e prima ancora hanno negato la possibilità di interloquire con quella discussione. Perché non ci hanno ascoltato, non ci hanno, come accade in una normale vita democratica di questo Parlamento, ho sentito la necessità e il bisogno di ascoltare chi nella società civile tutti i giorni è impegnato ad affrontare i problemi della criminalità. Un provvedimento sbagliato sia nel metodo che nel merito con un dibattito parlamentare che è stato ridotto al minimo e una mancanza di confronti di dibattito anche nel Paese. È un provvedimento che fa fare dei passi indietro notevoli rispetto alle garanzie dei diritti e alla tutela della dignità delle persone. I provvedimenti in tema di immigrazione, in tema di sicurezza vanno nella direzione sbagliata. La vendita di beni confiscati non può essere una scorciatodia per evitare le criticità che ancora si riscontrano nelle destinazioni di questi beni perché le criticità si possono risolvere con l'impegno di tutti.